Sono molto grata di questo titolo perché credo sia molto importante riconoscere il servizio che noi scout facciamo per le nostre città. Cara Aruna, mi hai scritto una bellissima lettera per cui mi imbarazza risponderti. Mi piacerebbe conoscerti anch'io ma chissà forse un giorno quando tutto questo sarà finito. Con un sorriso vedono il fazzolettone e calmi già le persone e quindi un servizio che sembrava distante invece si è rivelato forse più vicino di tanti altri. Desideriamo fortemente che il nostro gioco di squadra tra capi e ragazzi funga da esempio a tutti noi scout. Mi sono trovato con una grande soddisfazione ad essere scout e ad essere gesuita in ambienti dove ho potuto servire gli ultimi e credo che anche questo lo scoutismo ce lo insegna. credo che questo sia nel futuro dello scodismo un punto importante, scegliere le periferie. Per cui posso dire che sono un uomo felice e questa è una cosa bella. alla fine della vita dire ho tanta gioia. Questa ci manca la consapevolezza per fare un cambiamento e portarlo nella società. E bisogna attrezzarsi secondo me, non so in che modo, ve lo lascio nelle vostre riflessioni. educare anche non soltanto all'intero, ma anche all'incommensurabile, a quelle esperienze che possono essere solo vissute insieme, che magari non si riesce nemmeno a nominare, che si cerca di raccontare, ma che pure sono cruciali per la crescita di ciascuno. Grazie a tutti. Grazie a tutti.